Sensi unici, percorsi pedonali e un parcheggio al posto del distributore in via Legramci. Questi sono solo alcuni dei cambiamenti che riguardano il nuovo piano della viabilità nel centro storico di Fano, predisposto dall'assessore alla mobilità urbana Stefano Marchegiani. Alcuni lavori sono già iniziati, come in via Nolfi, dove sono stati realizzati due percorsi che individuano il sedime dei pedoni e che saranno poi tutelati con alcuni dissuasori. Inoltre nella stessa via c'è un limite di velocità di 30 km orari, che in particolare dopo le ore notturne non viene rispettato. Per questo motivo verranno presi dei provvedimenti. Metteremo rilevatori di velocità per avvisare, magari qualcuno che non si è accorto che c'è un limite di 30, perché ci sono delle abitazioni che incombono proprio lì, e poi metteremo le pattuglie. E quindi ci sarà una presenza più assurda dei vigili che fermeranno coloro che vanno oltre la velocità consentita. Pensiamo anche di fronte alla Bella Napoli di mettere un cartello che indichi esplicitamente la direzione Pesaro dal cavalcaferrovia che si trova di fronte alla Bella Napoli, così molti non hanno bisogno di passare per il centro storico. Un altro cartello nella prima via di intercettazione a Valle, che porta anche più speditamente di intercettare gli anolfi in direzione Pesaro. Per quanto riguarda la fornitura di prodotti ai negozi del centro e le operazioni di carico e scarico delle merci, si pensa di liberalizzare una fascia matutina dagli ore 8 alle 10. Inoltre si sta monitorando sulla regolarità dei permessi di accesso in uso ai portatori di handicap, dato che Fano ne vanta il doppio di quelli in circolazione a Pesaro. Cerchiamo di mediare la situazione con zone di carico e scarico che sono utili a tutti, norma dotato e portatori di handicap. Il nuovo piano del traffico apporterà cambiamenti anche in zona zavarise. Qui verranno istituiti dei sensi unici di marcia e percorsi pedonali per permettere in tutta sicurezza il transito dei pedoni. In zone infatti non esistono marciapiedi e spesso le auto parcheggiate occupano tutta la parte laterale della carreggiata. Questa è una richiesta che si è stata fatta da tempo e quindi abbiamo pronto già un piano di interventi. Significa riorganizzare anche i parcheggi in modo parallelo alla strada e non più a spina di pesce, tenendo conto che molte di quelle abitazioni hanno la facoltà di entrare in parcheggio privato e comunque di garantire ciò che il codice della strada impone, cioè la possibilità di un pedone di muoversi in sicurezza. La novità più importante invece riguarda la scadenza della concessione rinnovata da decenni al distributore di benzina situato alla confluenza di Viale Gramsci e Via Montegrappa. L'intento è quello di non protrarla oltre e di trasformare quell'area in un parcheggio, agevolando così la pedonalizzazione di Via Cavour. Abbiamo fatto un incontro con i commercianti e sappiamo che il tema non può essere che graduale, vanno create le condizioni per pedonalizzare Via Cavour. È uno spazio molto bello, oggi però c'è un commercio che vive insomma del mordi e fuggi, cioè chi si ferma, chi prende una cosa e va via. Noi non vogliamo far chiudere i negozi, ma però attivare le condizioni per riflettere serenamente su una riconversione di quello spazio che può essere sostanzialmente uno spazio meno impattato dalla viabilità carrabile. Il tema dei parcheggi già realizzati da anni nell'area degli ex carri di Carnevale, gli ex capannoni di carri di Carnevale, e adesso al 31-12 scade la convenzione col distributore Agip, noi faremo la proposta di uno spazio alternativo, perché questo ci impone il contratto con l'ENI da quel punto di vista, però quello è uno spazio importantissimo da destinare ad altri parcheggi, a un'altra zona di interscambio, per cui creiamo le condizioni e poi andiamo avanti per step successivi.